E' ancora in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, il ragazzo di 21 anni di San Michele Salentino, rimasto vittima di un incidente avvenuto durante una lezione pratica di un corso di formazione nel cantiere navale danese di Brindisi. Lo studente è ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale Perlino. Le fratture riportate nell'infortunio, come fa sapere il direttore dell'unità operativa di ortopedia Gianfranco Corina, sono circoscritte alla zona del bacino e saranno trattate chirurgicamente nell'ospedale di Brindisi non appena le condizioni cliniche generali del paziente lo consentiranno. Attualmente l'attenzione dei medici è concentrata sulle lesioni interne localizzate nella stessa area delle fratture riportate nell'incidente. Come è noto, il ragazzo, subito dopo l'accaduto, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato nel nosocomio Brindisino in codice rosso. Prontamente espressa la vicinanza anche della direzione del cantiere navale danese che ha sottolineato quanto sia stato fondamentale il pieno rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di tutti per scongiurare un epilogo ben più tragico dell'episodio.